Sabato 24 e domenica 25 agosto scorsi la Proloco di Berceto ha organizzato il tradizionale trofeo agricolo, giunto quest'anno alla sua sesta edizione. La parte del programma più apprezzata da tutti ha riguardato la benedizione dei trattori che erano scorsi lungo Piazza San Moderanno volti a raggiungere il centro sportivo Cicomendex, sede della fiera. Il mondo agricolo-bercetese trova in questa manifestazione la sua identità, le sue abilità e la sua voglia di esistere ancora, come agricoltura di montagna, aperta alla qualità ed alle molteplici funzioni a cui essa è chiamata, non ultima quale concreto baluardo, contro il dissesto idrogeologico. Gli agricoltori-bercetesi hanno avuto modo di competere nel tractor-pulling, iniettandovi tutta la loro perizia e la potenza dei loro mezzi di lavoro. Non sono mancati, naturalmente, i momenti di socializzazione e di scambio di idee e di proposte commerciali ed aspetti conviviali, come le cene a base di pesce e due serate di musica e balli. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.